Ben tornati a tutti. Oggi è lunedì, 13 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, se la vostra relazione ha qualche crepa state attenti. Sul lavoro avete una grande intraprendenza e quindi non trattenetevi e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta. Esce Marte dalla negatività e si ferma nello scorpione segno con cui condividete molti aspetti caratteriali. La previsione odierna è così positiva, i moti planetari vi offrono discrete opportunità per cambiare, o meglio rivoluzionare, la vostra vita. Se saprete agire con razionalità, tempismo, lungimiranza, il cielo vi permetterà di affermarvi e di emergere, arrivando dove vi siete prefissati. È il prodigioso gioventoro, benefico per voi, ad aprirvi a nuovi interessi sportivi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9, benessere, 8. Toro Cari toro, non è il periodo ideale per l'amore e questo ma non per questo bisogna chiudersi a riccio. Sul lavoro avete bisogno di chiarire le cose con i colleghi. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta. Comincia da oggi la negatività di Marte che vi tiene il broncio dallo Scorpione fino al 22 novembre. E il gioco dei transiti alternerà così alti e bassi. La nuova posizione di Marte non sarà negativa in sé, ma avrà l'effetto di rendervi apatici o poco ricettivi ai suggerimenti esterni, specie se siete nati nella prima decade. Plutone e Nettuno, in compenso, continuano a inviarvi i loro influssi benefici di creatività, estro e flessibilità, specie se nati in maggio. È necessario quindi adattarsi al quotidiano e cercare di non puntare in questo momento a mete troppo ambiziose. A proteggervi ci penserà anche Giove nel vostro segno, che vi regalerà armonia in famiglia e più in generale negli affetti. È una stagione che vi appassiona e stimola a godervi la natura. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Gemelli. Cari gemelli, c'è qualche dubbio in amore anche se le stelle parlano di una buona giornata per i sentimenti. Sul lavoro potreste decidere di cambiare qualcosa. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto sia giusta. Molti di voi, grazie a Sole e Giove, oggi ben disposti, rivivono una seconda giovinezza. Mercurio nell'alleata bilancia è una marcia in più per la vostra simpatia, l'efficienza di scatto, la capacità di stare al mondo. E, infine, di intrattenere ottimi rapporti umani, in specie al modo se appartenete alla seconda e terza decade gemellina. Solo i nati in maggio vedono ancora la dissonanza di Saturno e possono avvertire una volontà di affermazione e di conquista che non trova i canali giusti per indirizzarsi. Dal punto di vista della forma fisica, godete invece di un perfetto equilibrio tra il corpo e la mente. E con questo slogan riuscite a mantenere un fitness per cui siete ammirati. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Cancro. Cari cancro, avete bisogno di chiarire con il partner e dire ciò che non vi rende felici. Sul lavoro non è la giornata ideale per brillare ma non si può essere sempre sotto i riflettori. Marte smette finalmente la negatività per voi uscendo dalla bilancia e entrando in scorpione, segno amico appartenente all'elemento d'acqua, dove si fermerà fino al 22 di novembre prossimo. Per il momento ne sentirete gli effetti di vitalità e dinamismo se siete nati in giugno. Buona la vita familiare e ottimi contatti amichevoli, anche perché siete in una fase di particolare simpatia e affabilità. In palestra cercate di non affaticarvi troppo e mantenetevi su esercizi soft. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 8, benessere, 8. Leone. Cari leone, è il momento di recuperare terreno in amore e sul lavoro dopo un periodo di difficoltà avrete modo di avere una rivincita. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta. Dovete da oggi reggere alla negatività di Marte che si dispone in angolo contrario per voi dal segno dello scorpione se siete della prima decade. Il sole è tuttavia armonico per compensare eventuali cali di vitalità. Brillanti e vivaci nel sociale, diligenti nello svolgere l'attività lavorativa potrete avvalervi di un momento veramente propizio. Per quanto riguarda il fitness potete godere di un discreto stato di salute, specie per la terza decade. Se invece appartenete alla prima decade tenetevi al riparo dagli acciacchi di stagione cui la posizione di urano in toro potrebbe sporvi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Vergine. Cari vergine, questa giornata è abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale. Non tutto sta andando secondo i piani, ma vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Insomma, rimboccatevi le maniche. Non prendete i vela se qualcuno non la pensa come voi. Sul lavoro non mettetevi in mezzo a discussioni tra colleghi. Entra Marte in uno dei suoi segni favoriti, lo scorpione, voi ne trarrete in dubbi benefici, data la vostra amicizia con l'ottavo segno d'acqua. In aggiunta Luna e Venere vi forniscono uno stato di salute ottimale, ma Saturno imbronciato può darvi invece oggi un umore variabile. Questa ipotesi è più centrata se appartenete alla virginea prima decade. Attività come lo yoga possono riportarvi un discreto equilibrio mente, corpo. Un bel mercurio ancora positivo per il vostro segno, invece favorisce lo sport e l'esercizio fisico, specie nei nati nella seconda decade. Terza e prima decade invece, attivano la passione per la danza o balli, anche moderni, da condurre con un ritmo scatenato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 9, benessere, 8. Bilancia. Cari bilancia, il cielo parla d'amore e quindi via libera ai sentimenti e alle uscite. Sul lavoro arriva il momento delle novità. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto sia giusta. Insomma, non tutto è perduto. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche. Esce oggi Marte dal vostro segno, ma resta comunque molto positivo, trovandosi nel segno buon vicino e adiacente dello scorpione dove il pianeta si trova molto a suo agio. Se appartenete alla prima decade venere nella Vergine, benefica fa sì che, attraverso stimoli e interessi artistico, culturali, il vostro stato d'animo migliori considerevolmente. Se siete nati nella terza decade avete Plutone imbronciato e dovrete così fronteggiare piccole noie quotidiane. Per vostra fortuna il cielo piazza il duo sole, Mercurio nel vostro segno che vi aiuta a trovare le strade di razionalità, buon senso, capacità di compromesso, indispensabili per arrivare alle vostre mete. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Scorpione. Cari scorpione, la luna vi protegge e vi regala belle emozioni. Sul lavoro potreste avere un ripensamento, riflettete bene su cosa volete fare. Vedrete che presto tutto sia giusta. Novità assoluta della giornata è l'ingresso di uno dei nomi tutelari del vostro segno, Marte, in Scorpione. Vi rimarrà fino al successivo 22 novembre prossimo. La vostra invidiabile grinta coinvolgerà e animerà positivamente l'ambiente attorno a voi. Plutone e Nettuno, Marte e Mercurio, senza escludere il sole e infine la seducente Venere, tutti giocano, con vari ruoli, nella vostra squadra. Non vi lasciate frastornare dalle emotività, sia in casa o fuori poiché vi servite di banaltre frecce al vostro arco. E queste frecce, potenti, sono, la vitalità creativa, l'estro e la facoltà di comunicazione che raggiungono tutti i livelli eccellenti e vi consentono di agire, con uno sguardo lucido e ironico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 10, benessere, 10. Sagittario. Cari Sagittario, il cielo parla di belle novità per l'amore. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un'attività propria. Vedrete che tutto sia giusta. Potete aumentare notevolmente i vostri guadagni e dimostrare di che pasta siete fatti. Rimboccatevi le maniche dativi da fare. Tutto sia giusta. Marte esce dal segno amico della bilancia, ma resta positivo, entrando nel buon vicino segno dello scorpione. Il pianeta dà modo al vostro temperamento sincero di esprimersi al meglio. Tanto nella vita pratica quanto nei comportamenti in famiglia e in società, dimostrate la vostra schiettezza e la vostra affidabilità. Fate solo attenzione al duo Venere, Luna in Vergine, ad esso contrario, specie se siete nati nella prima decade, rischiate di non farvi comprendere appieno dall'ambiente circostante e forse anche di essere fraintesi impegnandovi a spiegarvi riuscirete a evitare qualsiasi equivoco. Se la stagione lo consente potrete allenare le gambe con lunghe traversate in bicicletta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, qualcosa potrebbe non stare andando per il verso giusto in amore e sul lavoro è un momento di difficoltà ma i problemi bisogna affrontarli e non nasconderli sotto il tappeto. Vedrete che piano piano tutto sia giusta. Rimboccatevi le maniche. Non è il momento per piangersi addosso. Evviva. Marte, uno dei vostri nomi tutelari, rientra a favorirvi dal segno buon amico dello scorpione, aumentando la grinta, il vigore creativo, la voglia di affermarvi. Per il momento toccherà sentire l'azione vivificante di Marte ai nati in dicembre. Giove e Venere entrambi ben messi vi rendono ottimisti e, pur se non vi abbandonate certo ad atteggiamenti scansonati, sarete in grado di sorridere di voi stessi e degli altri. In quanto a fitness, avete un fisico in piena forma e lo esercitate in vari ambiti, sportivi e non. Nettuno nel segno mistico ed estroso dei pesci favorisce la meditazione, lo yoga, avrete così l'occasione di esprimere la vostra personalità più autentica e trovare occasione di appagamento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 10, benessere, 9. Acquario. Cari Acquario, la luna vi sostiene e migliora la vostra situazione sentimentale. Sul lavoro è il momento di sistemare qualcosa che non sta andando bene. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che le cose piano piano si aggiustano. Non prendete i vela se qualcosa non va come vorreste. Arriva la negatività di Marte dal segno dello Scorpione che vi terrà un po' in tensione fino al 22 del mese successivo di novembre. Niente di grave, avete tante frecce al vostro arco. In particolare Saturno e Nettuno, i vostri pianeti guida, sono ben disposti specie se festeggiate il compleanno nella terza e nella prima decade e vi illuminano il cammino con realismo, lungimiranza, buone prospettive per il futuro in campo professionale. Uno scattante Mercurio in bilancia promette invece piene soddisfazioni in campo familiare e amichevole. Un po' di moto per migliorare il fitness non può che farvi bene. Il pianeta vi dona la possibilità di misurarvi con la danza e eventualmente di scatenarvi nei balli di gruppo, specie se appartenete alla seconda decade dell'acquario. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, questa giornata è un po' sottotono ma non dovreste innervosirvi troppo. Sul lavoro bisognerà fare una scelta decisiva per la carriera. Non potete pensare che tutto vada per il verso giusto senza intoppi. Vedrete che piano piano le cose si aggiustano. A volte cambiare aria fa bene. Marte entra in scorpione e vi rende pimpanti ed energici. Il pianeta sarà propizio a voi fino al 22 del successivo mese di novembre. Urano, dal canto suo, vi stimola a muovervi in continuazione, a non star fermi un attimo. In serata, il dolce far niente può rivelarsi utile per recuperare meglio le energie. Proseguite il cammino di questo mese di novembre con Saturno che vi guarda benevolo in congiunzione nel vostro segno. La comunicazione, l'espressione fantasiosa e l'espansione affettiva saranno canalizzate positivamente da voi. In famiglia dovrete, con la vostra pazienza, trovare la soluzione per un problema che riguarda un figlio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.